A Sabionete è arrivato Babbo Natale, oggi 20 dicembre 2015, è arrivato su un'Alfa perché le renne le ho vendute. Sono arrivato sull'Alfa da pista di Pegaso Team per fare una giornata felice a tutti i bambini di Sabionete e tutti i dintorni. Cerchiamo di mantenerlo questo Natale, facciamo i presepi, facciamo gli alberi di Natale, non facciamoci rubare il Natale da chi non crede e non togliamo questa gioia ai bambini. I bambini qui ricevevano tutti un regalo da Babbo Natale, un regalo e dei dolci e tanti bambini mi hanno portato anche la letterina che stasera leggerò e cercherò di esaudire. Abbiamo presenti varie associazioni, i Warriors di Biadana sono ragazzi disabili che giocano a hockey in carrozzina. Un'associazione è Casalbellotti Insieme che raccolgono fondi per i bambini disagiati. Abbiamo varie ditte del posto con prodotti tipici, solo prodotti tipici dei nostri luoghi, dei nostri posti. Non dobbiamo copiare gli altri mercatini, noi non abbiamo bisogno, abbiamo prodotti buoni come loro se non migliori, o perlomeno per noi. Un arrivederci a tutti i bambini per il prossimo anno e Babbo Natale sarà ancora qui. Ciao a tutti!